ciao a tutti qui Matteo da gold prospecting in questo breve video voglio farvi vedere un affioramento particolare stiamo lungo questa scarpata come vedete vi è una posizione molto verticale la scarpata che tende anche essere pericolosa con un livello molto ricco in massi di una grande dimensione dopo di che vedete alla base che la clività diminuisce la pendenza diminuisce notevolmente vi sono semplicemente i massi caduti ammassati tendenzialmente senza sabbia come vedete vi sono solo masse che affiorano questa perché è stata dilavata durante le ultime fasi della piena o comunque durante le fasi della piena che ha demolito il terrazzo vedete proprio che questi clasti sono molto addensati tanto che è difficoltoso estrarli oltre che pericoloso e il fatto che sono molto addensati fa proprio vedere dal carattere molto verticale della parete vedete proprio come sono addensati e questa particolare struttura è anche favorita dal fatto che alcuni fluidi ricchi in ossidi hanno percolato tutti i spazi disponibili all'interno della roccia in quanto al di sotto di questa scarpata voi non lo sapete mai ve lo dico vi è un affioramento di argilla quindi l'acqua non passa attraverso l'argilla anche se l'argilla contiene molta acqua e perché la velocità all'interno dell'argilla è talmente bassa che noi diciamo che l'argilla è impermeabile queste acque si raccolgono la parte più alta dell'argilla in questo caso sono abbastanza ricche in ossidi specialmente di ferro e vanno a generare un sedimento molto caratteristico e come vedete molto macchiato questi ossidi sono interessanti perché ci vanno a delineare alcuni materiali all'interno della scarpata che poi vanno a dissolversi all'interno dei fluidi raccolti nel limite superiore delle argille e qui proprio si vede questa diversa verso colore della parete quindi vediamo una panoramica siamo sull'orco alla punta motocross nella parte frontale rispetto a rivarolo vedete proprio la clività una parte inferiore alla parete e niente che dirvi ho fatto diversi test lungo questa parete in quanto ricordatevi che se c'è oro e perché dipende dai terrazzi dove viene poi roso durante le piene oltre a tantissimi altri fattori questo materiale qui quello che vi sto facendo vedere adesso è proprio la base in quanto il resto come vedete è molto difficile da estrarre sono andato a lavarlo e questi sono i risultati vedete vi è una qualche puntino diciamo e una bella scaglietta adesso vi faccio vedere vi do una scala di riferimento vedete la dimensione ecco vedete una bella scaglia qui matteo da dark gold prospecting vedete 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 vedete